Presidente, colleghi, governo, presente il Sottosegretario Morrone, vede Presidente e Sottosegretario, anche se Fratelli d'Italia voterà a favore di questa normativa, purtroppo dobbiamo constatare che il testo emerso dalla Commissione Giustizia è troppo debole e comunque dobbiamo dire che è un'ottima iniziativa quella di voler riformulare la legge sulla legittima difesa. Il nostro sistema giudiziario ne ha un disperato bisogno e le cronache non fanno che confermare questa necessità. Infatti questo provvedimento o questa riformulazione ha sicuramente l'aspirazione di voler tutelare i cittadini da un calvario giudiziario che li trasforma da vittime in carnefici ed è irragionevole per uno Stato di diritto. Sottosegretario Morrone, o meglio Presidente, quella delle aggressioni, dei furti dove si usa la violenza è un problema ormai di sicurezza nazionale ed è per quanto siamo confortati dai dati che arrivano dal Viminale, cioè che i reati di furto e le aggressioni in abitazioni o presso attività commerciali sono diminuite circa del 10%, però purtroppo la percezione, il senso di sicurezza per il cittadino è sempre troppo basso e tra l'altro nonostante lo straordinario lavoro che fanno le forze dell'ordine, quindi la Polizia di Stato, i carabinieri, i furti sono ancora troppi e rimangono, e questo è in realtà terrificante, rimangono ancora senza colpevole, circa si parla del 97%. Questo è sicuramente terrificante. Se quindi la finalità della pena è quella della prevenzione sociale, ne discende la necessità che la pena sia proporzionale al delitto. Spiego meglio, in uno Stato normale la pena è il mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari tramite il contenuto afflittivo della stessa, perché esso ha la funzione di creare una reazione psicologica capace di arginare la spinta delinquenziale. E quindi io vorrei che il Governo mi spiegasse come si fa ad innescare questa reazione psicologica. Quando viene in questa riformulazione sulla legittima difesa, viene alzata una multa da 927 euro a 1.000 euro per chi furtivamente entra dentro casa, entra nelle nostre case per rubare ciò che è nostro, ciò che è dei cittadini italiani. Da là sorge spontaneo chiedersi come sono stati fatti questi aggiornamenti. Sembra che siano stati fatti come degli aggiornamenti Istat. E vi spiego meglio. Se noi pensiamo che per il reato, sottosegretario Morrone, parlo al sottosegretario Morrone, Presidente, me lo consenta, se pensiamo che il reato di rapini, per il reato di rapini, la multa passa da 1.290 euro a 2.000 euro. E quindi con questo aumento di 700 euro si dovrebbero scoraggiare tutti i delinquenti. Mentre se un gestore di un bar che cerca di difendersi o di qualsiasi altra attività commerciale e, badate bene, sentite bene, omette di esporre il cartello di uso di telecamere per videosorveglianza, la multa è fino a 6.000 euro. Io credo che questo sia in realtà, le chiedo di rivedere questa situazione, sottosegretario. E ancora, se si installa un impianto di videosorveglianza in un locale sempre commerciale, un'attività comunque di carattere commerciale, omettendo di segnalarlo all'Ispettorato del Lavoro, allora la multa può superare, udite udite, addirittura i 30.000 euro. E ancora, se è giusto, ed è giusto che chi maltratta animali è punito con multe dai 5.000 euro ai 30.000 euro, ma è mai possibile però che chi commette una violenza o una minaccia per rapinare un'anziana, un anziano, o comunque, chi è una situazione di debolezza, la multa non supera i 4.000 euro. Noi non dobbiamo, e oggi ne abbiamo la possibilità, ne avrete la possibilità, di rivederle queste pene, queste multe, altrimenti saremo ridicoli. Sarete ridicoli. E quindi facendo sempre riferimento alla funzione della pena ed espressamente alla sua proporzionalità, non possono essere previste in questa riformulazione ancora pene inferiore ai 4 anni. Perché sia dentro quest'Aula che fuori ormai tutti sanno che non si va nelle patrie galere neanche per un giorno se la pena è inferiore o è di 4 anni. Quindi, Presidente, vede, in questo provvedimento si parla di reati contro la libertà, contro l'incolumità, contro la proprietà privata. Tutti principi garantiti dalla nostra Costituzione. Per cui, se l'obiettivo è o era quello di tutelare le vittime, allora la difesa, per tutelarle, deve essere sempre legittima e la pena commisurata al reato. E se il reato è contro la libertà e l'incolumità di onesti cittadini, allora la pena deve essere massima. Comunque, ribadisco, è comunque ottima l'iniziativa di riformulare la legittima difesa. La condividiamo e la condividiamo anche perché è una battaglia che Fratelli d'Italia porta avanti da tanti anni. E voglio, tra l'altro, ricordare che la proposta è stata presentata proprio da Giorgia Meroni, ma quello era un testo molto, diciamolo, più coraggioso di questo. Perché senza equivoci affermava che la difesa è un diritto e pertanto è sempre legittimo. E sempre senza equivoci la proposta di Fratelli d'Italia e quindi di Giorgia Meroni limitava la discrezionalità del giudice garantendo l'effettiva possibilità di difendersi senza subire anni di ingiusto o di ingiusti processi. Concludo e ribadisco, anche se Fratelli d'Italia voterà a favore di questa modifica normativa riguardante la legittima difesa, ci dispiace, mi dispiace, perché credevamo di non essere i soli a credere nel principio assoluto che la difesa è sempre legittima. Ma purtroppo in questo testo dobbiamo dire che resta ancora, lo ripeto, l'ampia discrezionalità del giudice, concludo Presidente, e rimane ancora la proporzionalità tra difesa ed offesa. Quindi, concluso per noi di Fratelli d'Italia, la difesa è sempre legittima, rimane un impegno solenne preso con tutti gli italiani e chiaramente combatteremo affinché questo testo, e chiedo a lei, sottosegretario Morrone, se vorrà farsi carico e magari ai commissari di rivedere quelle multe, così come ce ne erano tante, ma di rivedere gli emendamenti proposti da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, sicuramente per migliorarla. Grazie.